La giunta regionale aveva deliberato sulla costituzione di parte civile nel processo al funzionario accusato di corruzione. Dopo due giorni di polemiche il presidente della regione Crocette interviene annunciando un'indagine interna per verificare come mai gli uffici non abbiano seguito la delibera. Voglio ricordare, ha aggiunto il governatore, che l'inchiesta è partita da noi e da una denuncia che ha fatto questo governo. Il processo è iniziato lo scorso 19 gennaio e vede imputato Gianfranco Cannova, dipendente dell'assessorato al territorio, che ha ammesso le tangenti in cambio di autorizzazione da alcuni imprenditori titolari di discariche. L'avvocatura dello Stato aveva giudicato inopportuna la costituzione di parte civile per l'eseguità del danno e quello che viene definito il non particolare allarme sociale connesso alle fattispecie concrete contestate, ovvero le tangenti. La regione può esimersi dal chiedere un risarcimento perché ha sufficiente l'impulso accusatorio del pubblico ministero. Si leggeva in una nota del 10 novembre. Gli uffici si erano attenuti scrupolosamente a questa indicazione nonostante la delibera di giunta prevedesse il contrario. Intanto la giunta regionale si trova davanti all'imminente commissariamento dei fondi destinati ai depuratori, come annunciato dal presidente del consiglio Matteo Renzi. Un miliardo e cento milioni di euro stanziati per 93 opere in Sicilia da una delibera delle cipe di tre anni fa, soldi spesi però solo in una minima parte. Il governatore si dice soddisfatto però della decisione di Renzi. Si tratta di soldi gestiti dai comuni, non dalla regione di Chiara Crocetta, è a loro disposizione. Anche noi siamo intervenuti più volte commissariando le amministrazioni in adempienti.